La segheria a Monti è una realtà di primo piano nel bellunese per la produzione di componenti per l'edilizia e in generale per le costruzioni. Recentemente è stato effettuato un importante investimento di altissimo livello tecnologico con il sistema VDAI 5 che permette di ottimizzare la produzione delle componenti in legno. Ascoltiamo da Nicola Bagutti le caratteristiche di questo impianto. Questa è la nostra prima installazione del nostro VDAI 5, l'ultima generazione di scanner per l'ottimizzazione del legno. L'abbiamo installato presso la ditta Monti in collaborazione con la ditta Dimte Recursal con cui abbiamo una collaborazione ottima e siamo molto contenti di avere queste referenze in Italia. È Cristian Monti che ci parla della soddisfazione del cliente nell'utilizzo di queste innovative tecnologie che permettono notevoli vantaggi all'azienda. Da alcuni anni pensavamo di migliorare la qualità e il servizio ai clienti quindi ci siamo mossi sul mercato e abbiamo cercato i migliori fornitori possibili e abbiamo optato per la ditta VDAI che ci sembrava ci potesse garantire la migliore qualità nella risoluzione dei problemi che si sono presentati durante la produzione del giuntato a Bettine. Installato lo scanner abbiamo visto che ci sono moltissime possibilità di adattamento al prodotto e alle varie qualità che vengono richieste dal mercato e dai nostri clienti in particolare. Troviamo molta facilità nell'impostazione della macchina pur essendo una macchina molto complicata e molto sofisticata. Questo ci sta permettendo di velocizzare i processi di ottimizzazione e di produzione.